A bordo della Kareymar, viaggio Proci da Ischia. C'è il muro del carrello proprio davanti. Il carrello fa da un muro. Potremmo scegliere un posto migliore? No. Venga regia, faccia il suo lavoro. Ci si sposti immediatamente. Cosa vede regia? Sia seria per i nostri YouTube listeners. Do you understand? Non ci vedo. Non ci vedi? Benvenuta nel club. Oh mamma. Il mare. Cazzo, siamo su una nave. Oddio ho detto cazzo, scusate. Cazzo, non dovevo. Scusi eh. Dov'è l'isola? Di fronte. Ah ecco, non la vedevo. La vede lei? Sì, la vede. Beata lei. Così. Così. Dov'è il sole? Lo vede lei? Sì. Beata lei. Dov'è il vento? Davanti a me. Vedete lei? Sì. Anche il vento vede? Sì. Una regia super eroe ragazzi. Super dotata. Sì, super dotata. Va bene. La rotta a quanti gradi è? Ma è rotta o è giustata? È giustata. È rotta. Va bene, qui l'onda si fa alta. Il vento tecnologico. Perciò da questa imborcazione col mare Forza 8, grande rischio di vita per me e per la regia. Noi vi salutiamo.